Musica Amici sportivi e tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il bianco e rosso Tibi Sport. Una settimana vissuta in maniera diversa dal Bari perché reduce da due vittorie consecutive. La proiezione è verso la gara di Piacenza contro la Ferralpi Salò. Insomma, l'abbiamo detto anche ieri in trasmissione, dovesse vincere il Bari dopo la sosta, perché poi c'è una sosta, con Bari-Venezia potrebbe cominciare un altro campionato, un campionato più consono a quelle che erano aspettative anche della piazza bianco-rossa. Ma andiamo per i gradi. Partiamo per l'appunto delle due vittorie, della seconda consecutiva, anche perché un certo Francesco Monteleone, consultandosi con l'oracolo, ha detto che vedrai che adesso arriveranno due vittorie consecutive. Io ero Francesco? Esatto, esatto. Me l'hai detto. Mi ricordo, dopo tanti pareggi, guarda che adesso arrivano le due vittorie consecutive. Consecutive. Ma molti dirò che succede adesso però, perché non è finita la sosta. Non è finita? Va bene. Francesco Monteleone è in ottima compagnia perché con lui è il neurologo Giacomo Lo Savio. I due vanno di pari passo, insomma. Lui è molto più tifoso di me, è più scriteriato il Bari così, rinuncia agli amori della moglie, si mette sul divano tutto comodo. Ah, così funziona? E poi ogni sabato, domenica rimane, vabbè, mo' gioisce da due settimane, ma me lo devo sciroppare quando il Bari perde o pareggia. Mi ha messo molta curiosità. Vuoi sapere una cosa? C'è gente che mi ferma per strada e dice, non mi dice cosa ne pensa Francesco Monteleone, mi dice che ne pensa l'oracolo col quale si consulta Francesco Monteleone. Mi devi credere? Sono in tanti. Ma non... È diventato il trana di lui, fondamentalmente... Come la Sibilla di Cuma. Come la Sibilla Cumana, sì. Quando Enea arriva... Sì, e questa volta però è stato un tipo di oracolo scientifico. Io ti dissi che avevo trovato per caso un'equazione di un francese, il quale senza saper niente di quello che accadeva nell'esercito prussiano, prevedeva praticamente quante morti ci sarebbero state. È una cosa un po' strana. Quindi uno senza conoscere la materia si riescono a prevedere con questa equazione degli eventi rari ed incerti. Quando ti dissi delle due vittorie, in realtà questa equazione calzava perfettamente per le due vittorie e non solo. Perché nella stessa situazione stava il Cagliari. E io non te lo dissi perché, sai, mi sembrava veramente sarebbe stato... Invece hanno inforcato tutte e due le due vittorie consecutive. E questa equazione ha una percentuale altissima di realizzazione, del 90% praticamente. Quindi il rischio è limitato. Ce l'avessimo giocato avremmo pure vinto un po' di soldi. Adesso però... Adesso però... Adesso però... No, adesso... Tanto per far capire bene a chi ci ascolta, a chi crede anche a queste cose. Adesso è un po' come se fosse entrata la safety car nel giro. Cioè adesso è stata resettata quella condizione di deficienza di vittorie che il Bari aveva. Quindi adesso si riparte in sostanza tutti uguali da zero. Quindi con la partita prossima, quando è sabato... Sabato a Piacenza con la Ferrari. Il Bari potrà vincere, pareggiare o perdere anche. Cioè è come se si fosse ripristinata la linea di partenza. Sì. In sostanza. E' tornata alla normalità perché ora è una situazione particolare. Ma non sei stato molto rassicurante adesso. Eh no, va bene. Siamo tornati nella medialità. E' detto bene, la parola ha un'assonanza col concetto giusto. Il Bari è ritornato diciamo in quella media matematica che... Quindi può succedere di tutto naturalmente. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Però chiedo anche a Giacomo Lo Savio dal punto di vista proprio neurologico insomma. Ma una squadra che vince due partite consecutive si sblocca realmente? Oppure come dire, le hai vinte un po' sui nervi le due partite perché devi vincere per forte? Tanto per essere chiaro, insomma, magari ho banalizzato il concetto, però... Il discorso è un po' più ampio, più generico. Allora dal punto di vista neuropsicologico bisogna vedere alla base questi giocatori dal punto di vista dell'approccio, dalla personalità come partono. Perché fermo restando, abbiamo già detto in passato, voi avete detto, ma anche io ho detto in altri sedi, fermo restando che la condizione fisica fosse quella ottimale. Se un giocatore non rende, probabilmente c'è un gap di tipo psicologico che lo limita. Sappiamo che i giocatori in genere sono sottoposti a degli eventi stressanti molto elevati. Infatti ci sono stati anche dei lavori che hanno identificato che il calciatore, rispetto alla popolazione generale, è quello che più generalmente quando sono spesso di giocare va incontro a depressione, attacchi di panico, stress, ma anche la ludopatia è una delle conseguenze compensatorie dello stato depressivo. Il problema adesso qual è? I calciatori sicuramente hanno ritrovato una serenità parziale, quindi hanno ritrovato probabilmente un equilibrio, che in passato non avevano, anche perché per una serie di motivi, pressione della piazza, perché naturalmente abbiamo visto contestazione... Però Giacomo, spieghi una cosa, perché questa cosa coincide con il cambio d'allenatore? Cioè, io non ho visto un Bari completamente trasformato, va bene? Pochissimo, pochissimo trasformato. Mi è sembrato un Bari più votato alla vittoria, ma a prescindere dagli schemi, di quanto non lo fosse prima. Assolutamente sì. In realtà è anche lui che mi accompagna nei sabato a vedere le partite, quindi lui è sempre proiettivo, c'è tutto ciò che vive, lo vive con me. E io gli dissi, questo Bari è arrivato alla frutta. Anche se mi dispiace, ti ricordi che te lo dissi, l'allenatore va cambiato per dare una scossa, perché cambiano il setting, allora il setting analitico che si crea all'interno dello spogliatoio è come il setting analitico che si ha in una psicoterapia di gruppo. Cioè c'è lo psicologo che è l'allenatore e ci sono i calciatori. Quando ci sono delle resistenze da parte dei calciatori nei confronti dell'allenatore e qualsiasi cosa che l'allenatore, lo psicologo, può consigliare è messo in dubbio. E quindi chiaramente anche dal punto di vista psicologico si perdono quelle energie. Non credi più in quello che si dice l'allenatore? Assolutamente. Vabbè, sei stato molto chiaro. C'è una telefonata, pronto? Sì, ciao Lorenzo, buonasera. Io volevo fare una domanda a Monteleone, però vi deve rispondere sinceramente. Lui l'anno scorso, in sede di playoff, ha sempre detto non mi voglio consultare con l'oracolo per il risultato finale. Adesso deve dirci la verità. Lui l'ha consultato, ha saputo come andava a finire e ha sempre detto no, non mi voglio consultare per scaramanzia. Ma il col suo sapeva che purtroppo quell'11 in un è stato mortissimo. Vuota il sacco, dai, forza. No, è vero. Allora non ebbi il coraggio, ma non l'avrei detto proprio a scaramanzia. Ma in realtà uscirono le lacrime. Te l'ho già detto una volta. Uscirono le lacrime. E quindi io stavo a casa sua. Gli ultimi due minuti diventai uno psicopatico. Perché a due minuti dalla fine iniziai a girargli attorno come... Sei quei cani che che... Perché avvertivo che questa cosa delle lacrime non sarebbe finita? A due minuti. Sensazioni negative. Iniziai a girargli attorno come un pazzo e alla fine la moglie mi derise chiaramente, ma fu così. In realtà ha ragione lui e uscì il segno negativo purtroppo, l'interpretazione negativa. Sì, ci l'hai detto già un'altra volta, è vero, ricordo perfettamente. Allora, prima di andare avanti con le chiacchierate con Francesco Monteleone e con Giacomo Losavio, oggi hanno parlato tutti insieme i tre portieri del Bari. Brenno è la prima volta che parla, peraltro un portoghese, visto che è brasiliano. Pissardo e Farroni, li conosciamo tutti e tre. Conferenza stampa a porte unificate. Vediamo. Dovremmo avere la conferenza stampa di Brenno, Pissardo e Farroni? Non l'abbiamo. Facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria e poi andiamo con la conferenza stampa dei tre portieri del Bari. Andiamo in pubblicità. Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Solo da Car Service Bari. Viale IATG243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione e la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Guccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura e Andria. Con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive, biomedicale, automazione, ferroviario, siderurgico, dell'industria 4.0, del sistema idrico e del sistema casa. ITS meccatronicapuglia.it ITS Guccovillo. Il futuro ora. Questa è una storia che conosci già. È una storia di valori. Una storia di qualità. Una storia di vicinanza. Una storia di convenienza. Una storia di amicizia. Una storia che diventa ogni giorno più forte che mai. Prodotti a marchio Sigma. Nella tua storia da sempre. Nella tua spesa da sempre. Scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmapuglia.lombardigruppo.it Segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. Con il freddo arriva da Sport Club un'offerta imperdibile. Le nuove felpe Nike a soli 49 euro. Inoltre, non perderti le nuove collezioni Jordan, Puma, New Balance, Adidas e NBA. Ti aspettiamo da Sport Club. Corso Cavour 116 a Bari. A City Moda, l'autunno, si colora di stile. Scopri in store online tutti i look delle nuove collezioni autunno-inverno 2023-24. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Riegoci insieme in seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Ora siamo pronti a mostrare la conferenza stampa dei tre portieri del Bari, Brenno e poi i suoi vice, Pissardo e Farroni. Vediamo. Sempre è stato un sogno giocare qui in Europa e quando è sorgita la possibilità di venire a Bari io ho stato felice perché è una piazza importante qui in Italia e per me è importante essere giocando qua e conoscendo un'altra cultura, un altro paese. Quindi sono molto felice qua, anche la mia famiglia, loro sono felici qua. Però adesso mi sento meglio, mi sento più adattato con il paese, con la lingua, con tutti i miei compagni. Perché all'inizio non è facile perché non si può capire molto bene, non si può parlare molto bene. Però io ho parlato con Matteo Zengicchi di Sassuolo e lui mi ha detto per andare all'allenamento ascoltando la radio quindi così si può abituarsi di più con la lingua. Mio nono era italiano. No, 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 no. Il cognome è Davoli. Io non ho il cognome perché ero mio nono e quindi non lo so perché. Però il cognome è Davoli della mia famiglia e mio nono era di Cade il Bosco di Sopra. Dobbiamo essere bravi a continuare ad allenarci bene, a farci trovare pronti se mai un giorno dovesse capitare l'occasione. Ma sicuramente è un'esperienza nuova e in una categoria superiore. È sempre una sfida e dato che ho rincorso la B in tutti questi anni non potevano accettare indipendentemente dal ruolo che avrei ricoperto. Simpatico Brenno perché noi, come dire, a volte i tifosi, noi siamo anche eccessivi. Cioè pensiamo che uno arrivi dal Brasile dal primo giorno pari come se nulla fosse. In realtà dietro al portiere c'è un uomo che si deve ambientare, che vive a chissà quante migliaia di chilometri di distanza, che ha difficoltà con la lingua. Sentite cosa ha detto? Addirittura ascolta la radio per capire meglio l'italiano. Noi pensiamo che il portiere sia un giocatore, in realtà non abbiamo chiaro che dietro al calciatore c'è sempre un uomo. Ma intanto c'è proprio una diversità proprio segnica, semiologica tra i tre portieri. Il brasiliano è più spensierato, più volenteroso, più libero di esprimere i propri sentimenti. Sembra anche il più giovane comunque, non so se effettivamente lo sia. È il più giovane. Invece gli altri due sono paludati, capito? Quella cura del linguaggio, di stare attento a dire qualcosa perché c'è sempre il rischio che qualcuno si comprometta. Invece lui è stato sincero, mio nonno, non mi ricordo manco come si chiamava mio nonno e perché si chiamava così. Bellissimo. Io Enzo, tu lo sai come la penso, io dormo con la divisa, la mia a 67 anni, sono così stupido che dormo con la maglietta del Brasile la notte. Però il mondo è cambiato perché i primi i brasiliani avevano nei portieri il punto d'epoca. Ricorderei che abbiamo vinto un mondiale, grazie. Non tanto, il portiere del... Per 82 ricorderei, Valdir Perez, ogni tiro un gol insomma. Il portiere più forte in circolazione è il brasiliano, è quello che giocava con la Roma. Ah, li sono i portieri. No, questo è interessante questo discorso, non per i portieri Enzo, in realtà è successo nel calcio. Lo leggevo proprio l'altro giorno da un sociologo del calcio che diceva una cosa molto interessante. In realtà il calcio in Argentina, in Olanda, in Italia o a noi Cattaro si esprime allo stesso modo. Quindi tutti i giocatori giocano allo stesso modo e quindi a Brighton o a Siracusa tutti giocano allo stesso modo. E quindi è diventato addirittura sconveniente andare all'estero a comprare. Perché tanto se vai in Argentina, diceva questo sociologo qui, alla fine puoi trovare un giocatore che hai preso dal Cerignola. In realtà. La globalizzazione porta un po' a una sorta di omologazione. Sì, ma c'è sempre l'influenza ambientale perché chiaramente gli stimoli e le motivazioni sono diverse. Per esempio un calciatore che è nato nelle favelas in Brasile ha più stimoli, più motivazione, più carica. Parliamo di talento, sul talento sono d'accordo con te. Però dal punto di vista motivazionale probabilmente c'è una differenza che può far emergere il campione rispetto al giocatore normale. Ma in generale io tutta questa differenza non la vedo. Per esempio ci sono ultimamente, sto leggendo anche sui social, che si parla tanto di Zotti, diciamo coetaneo di Cassano. Però sappiamo che era un grande calciatore, come mai lui non è riuscito neanche, non dico ad arrivare al livello di Cassano, a percorrere un minimo della carriera di Cassano. Non ha mai esordito in Serie A e quindi eppure era un giocatore che meritava. E ci sono tanti giocatori, calciatori che nelle serie inferiori sono bravissimi, che non arrivano mai neanche in Serie B. C'è un fatto mentale, ma anche un fatto di fortuna, il filosofo te lo può garantire, è un fatto anche di fortuna e di coincidenza. Conta la fortuna nella vita Francesco. Nel calcio la metà è satta, l'hanno proprio quella e l'altra cosa che hanno calcolato. Parliamo spesso di queste cose. Nel calcio il caso decide le partite proprio il 50% delle volte. hanno visto migliaia di partite della Premier in Germania e queste persone qui, che poi sono scienziati della matematica, hanno stabilito che la metà esatta delle partite era decisa non dalla squadra più forte, la squadra più forte vince la metà delle volte. Questo va detto anche a chi scommette nelle sale come me. Poi parliamo di ludopatia con Giacomo, perché intanto apriamo ancora le telefonate 080 501 9998 è inutile nascondere, cioè è il tema del momento. Ludopatici sicuramente ce ne sono, la sensazione è che adesso ci possano essere anche di ludopatici per convenienza, nel senso che magari un idiota che ha scommesso trova nella ludopatia anche una forma di attenuante rispetto a delle condanne che potrebbero essere più severe. Però il caso di Fagioli è abbastanza chiaro, il caso di Tonali è abbastanza chiaro, questa gente che giocava in maniera, è una cosa incredibile che mi è sembrato di capire che Fagioli giocasse da ragazzino addirittura, c'è una cosa pazzesca. E la cosa più assurda è che tu non corrispondi il volto di un calciatore come Fagioli a quello che fa. È ingannevole. È molto ingannevole, nel senso che un ragazzo veramente è il ragazzo della porta accanto, sembra un ragazzo perfetto invece. La ludopatia è un discorso abbastanza complesso, non lo possiamo elaborare solo con quello che la cronaca ci propina in questi giorni, in questi mesi. Il ludopatico ha una struttura, come dicevo prima, ha una struttura di tipo depressivo, che va a seguire tutta una serie di caratteristiche, anche di tipo motivazionali, anche di stimoli, anche di personalità, sia nell'età evolutiva, perché abbiamo tanti ragazzini che sono ludopatici, che poi si cronicizzano nell'età adulta. Allora il ludopatico, fondamentalmente dal punto di vista neurobiologico, ha necessità sempre di avere un livello alto di dopamina. E la ludopatia è una dipendenza, come tutte le altre dipendenze da alcol, da stupefacenti, solo che invece di esserci una sostanza, c'è un comportamento. E il comportamento reiterato, che è quello del ludopatico, determina questi aumenti di dopamina. Cos'è la dopamina? La dopamina è un neurotrasmettitore che a livello cerebrale, è il neurotrasmettitore che ci fa provare piacere, il neurotrasmettitore che ci segnala la sete, la fame, che ci avvisa quando ci sono le necessità primordiali, ma anche interviene nella paura e in tutta una serie di meccanismi emozionali che vengono controllati dalla neurobiologia. Perché noi parliamo di emozioni, però non sappiamo che nel cervello, nella scatola cervello, ci sono tanti neurotrasmettitori che veicolano queste sensazioni. e possono essere adeguati, diciamo, alla conseguenza di una situazione ambientale, ma possono essere anche la conseguenza di una carenza propria. Quindi si entra proprio nello stato di malattia. Infatti la ludopatia è una patologia a tutti gli effetti e dove c'è un setting di tipo terapeutico particolare. Telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Mauro Giovanni. Ciao, ciao. Enzo, noi come rientro dei fortunati, con un'altra attaccante, possiamo fare un campionato di fascetti? Un campionato? Alla fascetta. Alla fascetta. Alla fascetta, non vanno a sede, non vanno a sede. Che facciamo dei risultati utili. Che facciamo invece? 13 risultati utili consecutivi, ma li facciamo addirittura ad aprile in poi. Quindi qua saremo partiti con largo anticipo. Una volta vincevamo il derby, il 5, lo diceva sempre Vincenzo Matarrese, il giorno del mio nomastico, vincevamo il derby con Lecce. E poi, grazie Mauro Giovanni. Sì. Enzo. Sì. Voglio dare un saluto al mio caro vicino Giorgio Caccella. Salutiamolo Giorgio, perché no? Salutiamo Giorgio Caccella. E' un grande tifoso del Bari. Grandissimo tifoso del Bari. C'è un diglietto del Bari, del 141. Un depositario dalla storia del Bari. Infatti gli dice, una volta c'erano più di Gianni Antonucci, nessuno sa più la storia del Bari. Dice Giorgio Caccella. Tra l'altro, fenomenale. C'è un giocatore che ha giocato a Bari e che ha coltivato mili interessi. La scrittura, la musica, il cinema. E' Alessandro Gazzi, che ieri siamo andati a intervistare via Skype. perché Alessandro Gazzi è il vice allenatore della Feral Pissarola, squadra con la quale andremo a giocare sabato. Ripeto, scrive anche un blog, scrive dei libri, un ragazzo dei mili interessi. Andiamo al cinema. Riproponiamo questo pezzettino. Sì, beh, sette anni sono stati... ho sorbito un po' tutto. Per certi versi anche la cadenza dialettale, perché ogni tanto mi capita di ricordare con mia moglie i tempi di Bari e allora ogni tanto si scherza un po' sul dialetto barese. Comunque, sì, ci sarebbero miliardi di ricordi, quello sicuramente. Però, in prima parlata dello stadio pieno, adesso ho questo ricordo della prima partita che ho fatto a Bari che era a metà agosto in una partita di Coppa Italia con il Messina quando lo stadio era totalmente vuoto. Era una desolazione incredibile della quale parlo anche in qualche testo che ho scritto sul blog. Era una scena un po' desolante che era l'esatto opposto di quello che poi ho vissuto negli anni di Serie A e negli anni di Conte in Serie B con la promozione del campionato. Per il momento siamo appena arrivati quindi stiamo ancora conoscendo un po' tutto l'ambiente. Per me è un'esperienza nuova e sono contentissimo di affrontarla. Certo, la classifica parla chiaro in questo senso quindi ci sarà da lavorare molto. Peraltro ieri Roberto Maffei che era ospite di Trammissione ha ricordato una cosa molto interessante. Gazzi sradicava palloni su palloni senza commettere fallo. Cioè non aveva bisogno di far farlo ma solo con la struttura fisica spostava gli avversari. Ricordai il famoso vessillo con il rosso non si passa che era dedicato a Gazzi dei tifosi del Bari. Andiamo in pausa pubblicitaria poi per una terza parte ti ho preparato 10.000 cose. 10.000 preparate che dobbiamo commentare tutto. Stavolta non parleremo del Bari ma parleremo di cose che ho trovato qua e là e voglio sottoporre alla tua e alla vostra attenzione. Pubblicità. Questa è una storia che conosci già è una storia di valori una storia di qualità una storia di vicinanza una storia di convenienza una storia di amicizia una storia che diventa ogni giorno più forte che mai prodotti a marchio Sigma nella tua storia da sempre nella tua spesa da sempre scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmapuglia.lombardi.it segui supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram CODES società di ristrutturazioni edili interni ed esterni installazione e manutenzione di impianti di condizionamento riscaldamento idrici e fognari dalla progettazione alla manifattura CODES SRL e a Modugno in via Brescia 4D mail il CODES SRL punto info chiacciolagmail.com whatsapp 375 817 0098 a City Moda l'autunno si colora di stile scopri in store online tutti i look delle nuove collezioni autunno-inverno 2023-2024 seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook WMB Viaggi pacchetti vacanze a quote fisse e vantaggiose vienici a trovare in una delle nostre agenzie siamo a Bari in via Brigata Regina 72 via Giuseppe Fanelli 221 via Andrè da Bari 69 e in via Cirillo 2 barra via Valenzano WMB Viaggi punto it eccoci insieme con il bianco e rosso TB Sport prima della raffica di cose interessanti da come dire analizzare con Francesco Monterione e Giacomo Losavio ancora uno stralcio del TB Sport serale di ieri abbiamo avuto anche Ricci Giacomo Ricci in studio sentiamo cosa ha detto questione tattica penso comunque che riusciamo ad arrivare con più uomini anche sui cross che è una richiesta che il mister vuole che quando arriviamo là senza nemmeno guardare bisogna mettere il palla dentro perché vuole sempre 3-4 uomini attaccare l'aria forse prima questa cosa ci mancava un po' eravamo un po' più no timidi però non andavamo a cercare sempre la porta come magari stiamo facendo ora e in più poi abbiamo qualche giocatore come Sibilli che quando strappa comunque ci sta creando superiorità e magari prima non riusciva a trovare la quadratura giusta era positivo prima quando magari ci sono stati tanti pareggi ora è ancora più positivo con queste due vittorie ma il gruppo deve essere sincero non ha mai risentito diciamo dei risultati è un gruppo sano e siamo tutti con la testa giusta quindi il tempo dirà la sua ma siamo tutti con la testa giusta per provare a centrare degli obiettivi penso che già con il cambio di modulo è normale che ci siano cose da lavorarci di più e cose da lavorare di meno lui sta mettendo le sue idee al gruppo c'è bisogno di tempo comunque è riuscito in poco tempo ha avuto anche dei risultati quindi penso siamo sulla strada giusta bisogna continuare così poi comunque dopo sabato abbiamo una sosta per poter lavorare un'altra settimana ancora io penso che siamo sulla strada giusta poi magari dopo la sosta arriveremo al 100% sull'idea che ha il mister Marino giudicato dall'aspetto nel senso tu lo vedi Marino come parla è il nuovo allenatore del Bari che idea ti sei fatto e poi tu dal punto di vista diciamo dell'allenatore quello che hai visto in campo però io mi fido molto come dire delle tue sensazioni Marino l'allenatore del Bari pensavo che mi facessi parlare di Ricci no in realtà non mi convince tanto è una persona che diciamo negli occhi ha ha meno spavalderie e più gli leggo un retrogusto di paura non lo so forse perché la responsabilità è grande ma così a leggere prima della carriera mi dava più una sensazione lo è stato però venire a Bari in una situazione di questo tipo sai ci vuole come affrontare un esercito molto più potente in questo caso è il caso le squadre avversarie che stanno davanti a Bari non hanno non hanno Giacomo un allenatore invece? è stato un allenatore audace però viene da una serie di problematiche di insuccessi molti esoneri quindi io penso che anche questo incida nella mente dell'allenatore e quindi quando deve sviluppare un progetto nuovo chiaramente c'è sempre il timore del fallimento quello che dice lui non è sbagliato la sensazione effettivamente di una persona più che impacciata e timida una persona che ha un po' di timore che effettivamente però devo dire che fino adesso è stato fortunato io adesso non so dal punto di vista organizzativo dal punto di vista eccomentale qual è l'approccio dei calciatori che è fondamentale e qual è la motivazione e gli stimoli che incutano i calciatori perché oltre chiaramente alle solite pappardelle dei lavori che fanno che sono stressanti deve creare degli stimoli che gli consentano di migliorare le prestazioni fisiche attraverso la velocità le velocità che noi spesso vediamo che l'attitano nel Bari sono determinati da una rapidità d'azione anche a livello cerebrale quindi se lui dà degli stimoli riesce a farlo al momento ripeto il giudizio è interlocutorio è stato fortunato perché oggettivamente come riconosciamo tutti il Bari non è cambiato tantissimo nella forma è cambiato nei risultati questo è sicuramente positivo però io vedo una squadra che se non altro ha un approccio diverso nel senso che la partita la vuole vincere poi non gioca bene effettivamente però la partita la vuole vincere stop perché devo adesso siamo a un momento senti c'è il video che sta impazzando sul web incredibile è il video di un ragazzino tifoso del Boca Junior che racconta in che modo è andato in Brasile per la finale poi persa da Boca Junior con la Fluminense è un video incredibile di una forza incredibile pensate questo bambino col padre sentiamo perché ha fatto dei sacrifici lui e il padre per andare lì non per entrare allo stadio ma per stare solo fisicamente da quelle parti vediamo la moto di mio papà ripammo mi play per venire a casa ripate la play e non abbiamo nientrata e però miro lo che sento miro lo che sento ecco bocca loco alle bocca fantastico si è venduto il papà si è venduto non so cosa l'auto mi ricordo la moto lui la playstation per andare in Brasile non per entrare nello stadio ma per stare fisicamente dove era la sua squadra il bocca junior ma che roba è questa a quell'età la mia squadra giovanile l'inter pareggiava spesso e io ricordo che piangevo oggi mi viene da ridere a quanta sofferenza ma a quell'età si soffre tanto per il calcio chi ama il calcio è una questione di cortisolo perché il calcio determina un aumento di cortisolo che è un aumento diciamo che migliora le performance motori però aumenta anche lo stress e quando c'è la frustrazione legata all'insuccesso della squadra questo si può trasformare in questo caso lui però aveva più dopamina che cortisolo lui ha detto che la finale è stata persa quindi probabilmente questa è la prima della partita prima della partita altro video è un audio tra De Zerbi allenatore del Brighton e Adani sentite cosa dice De Zerbi ad Adani solele sto camminando per la città a cappello gli occhiali quanta l'uncino non mi riconosce nessuno ma che bello vedere i bambini piccoli il giorno della partita camminare per la città con la maglia con le sciarpe già in attesa della partita eh un colpo di pelle d'oca un po' e uno deve essere pensare solo a quello come che fai a giocare male come che fai a perdere un contrasto come che fai ad arrivare al secondo a non provare dribbling dribbling con la con la cattiveria in testa come che è che roba che è il calcio un po' 4 anni sono ancora in questo stato solele volevo dire tu a te che lo capisci te e pochi altri stai ascoltando con attenzione non è facile lui dice praticamente prima della partita del Brighton si è camuffato è andato tra la gente a vestiti i bambini già vestiti alla mattina con la maglia del Brighton ha detto quando vedi ste cose come fai a scendere in campo e non mettercela tutta come fai a scendere in campo e non fare un dribbling con la ferocia più assurda ha detto io la cosa bella del calcio che dopo 44 anni mi emoziona ancora come se fosse la prima volta i valori reali del calcio in realtà sta succedendo pure a Bari che le famiglie con i bambini certo lì in Inghilterra è un'altra storia una volta mi ricordo di averti detto avevo visto la serie su Netflix mi ricordo del Sunderland e c'è una cosa bellissima il Sunderland c'è un parroco che la domenica prima della partita fa la messa in favore del Sunderland con la invece della stola di Cristo c'è la scempa e tutti nella messa stanno tutti sciarpati e con la divina è una cosa bellissima ma perché non la facciamo a Bari non c'è un prete tifoso ce ne sono il sabato fa la messa in favore del Bari ora ti faccio vedere quello che è un nostro mito è un nostro mito perché è spettacolare perché le conferenze stampa di Ezionino Capuano allenatore del Taranto sono stupendi a volte come dire sono più spettacolari la commedia napoletana sentiamo cosa ha detto in una delle sue conferenze stampa Capuano allora siccome io sono Capuano e ho 58 anni alleno da tanti anni mi assumo sempre la responsabilità di tutto poi quello che devo dire l'ho detto nello spogliatoio e lo ribadirò ma a mimmo l'allenatore sono io la colpa è mia io mi assumo tutte le responsabilità quindi la colpa è mia ascolto il signor Francesco perché sto come il pazzo cioè sto fuori di testa ok? quindi se andiamo nell'intrinseco della partita penso che la partita non c'è stata c'è qualche episodio che mi fa girare i coglioni io sono il responsabile e stasera mi sto prendendo le responsabilità in toto spettacolare spettacolare è un vecchio modo di intendere quello che lui diceva lo stimolo di calciatore allora la vera psicanalisi e non quella ultra popolare di Ezio Lino Capuano che che è simpatico e che è un po' come dire vittima del suo stesso personaggio in realtà se c'è una cosa che non serve a niente a stimolare i calciatori è il rimprovero e l'insulto se Mazzitelli venisse qui e ti diceva senso tu sei diventato incapace di fare la cosa non ti stimolerebbe ti umilierebbe soltanto l'unico modo per stimolare i calciatori è quello di stargli vicino insegnargli qualcosa in più disporli diversamente lui invece ha questo atteggiamento uno spogliatoio che poi circola nella rete che è molto repressivo e qualche volta anche offensivo adesso si è calmato un po' però perché mi diceva Pieri in Gravallo che gli hanno fatto fare la squadra che voleva lui sono cose vecchie quelle che c'erano sulla rete sono quelle vecchie erano insopportabili Enz perché lui insultava letteralmente anche se mi pare che una delle ultime partite si è ripresa con un giocatore senza far nomi perché ha battuto uno in fallo laterale piuttosto che l'altro ha detto io sono in generale ma sulla responsabilità e come dire i soldati devono eseguire i miei ordini questo ho detto praticamente allora un'altra cosa volevo farvi vedere cose stupende una conferenza stampa questa è una squadra che l'altro giorno ha affrontato i Villareal la squadra si chiama Ciclana ed è della sesta divisione spagnola per permettere al più blasonato Villareal di compiere le conferenze prima e dopo il match di Coppa del Rei ha attrezzato questa sala stampa di fortuna con qualche sede di plastica un tavolino e un tendone messo nel parcheggio dello stadio il Villareal poi ha vinto per 5 a 0 però complimenti a questa società di sesta categoria sesta divisione spagnola che come dire si è messa a disposizione del Villareal e qui si è fatta la conferenza stampa e poi una cosa bella perché il calcio deve dare anche questi segnali devo dire che non solo i tifosi della Fiorentina della Fiesole che hanno disertato Fiorentina-Juventus che per loro era la partita dell'anno pur di stare accanto agli alluvionati e dare una mano alle popolazioni colpite dall'alluvione ma l'ha fatto anche Cristiano Biraghi che è il capitano della Fiorentina che si è messo gli stivali e ha voluto aiutare la sua gente senza farsi pubblicità sui social la foto è stata scattata da un passante mentre il calciatore stava aiutando la protezione civile e questo credo che sia ma è l'economia della solidarietà l'economia del dono ci sono delle persone che hanno un animo nobile e quindi mettersi a disposizione degli altri aiutare i deboli non è che devi essere calciatore o devi essere ricco lo fanno i ricchi lo fanno i poveri lo fanno i santi qualche volta ti racconterò qualche vita da sante e capirai quanta gente rinunciando ai privilegi ha aiutato chi soffriva e lo fa ancora oggi quindi Biraghi ha dato un buon esempio e dovrebbe essere emulato anche da tanti calciatori che invece abbiamo un minutino intanto Edoardo Gallo ci ricorda che padre D'Amato che è stato ospite al Tibisport è un grandissimo tifoso del Bari peraltro molto giovane quindi potrebbe come dire promuovere e lanciare questa messa tutta bianco rossa 30 secondi a testa la messa bianco rossa al dottor Losavio questo studio sulla correlazione tra il colpire la palla di testa e i danni neurologici a che punto è? Beh sto facendo un'inchiesta epidemiologica una ricerca epidemiologica sui calciatori delle serie minori e ho creato così per vie trasversali perché i canali ufficiali purtroppo non è facile percorrerli e quindi sto identificando parecchi calciatori che hanno avuto precocemente malattie neurodegenerative tipo la demenza ma in questo studio sta venendo fuori che non ci si ammala solo di malattie neurodegenerative ma solo sempre quelle malattie ricorrenti tipo le malattie dell'apparato emolinfopoietico e anche le patologie neoplastiche del pancreas e dei polmoni che vengono anche con una certa frequenza vengono a galla io chiaramente nel calderone di tutte queste diciamo di queste indagini ci sono anche questi calciatori che sono affetti oppure sono deceduti purtroppo per queste anche in età abbastanza precoce Francesco Monterione sai che ti chiedo adesso no? anche se stai la citazione la chiede non stai lì via Skype sei in carne d'ossa ma ha maggior ragione ti chiedo la citazione del giorno ma l'abbiamo già fatto una volta e stavolta però è più calzante però quando Cesare nel 49 passò il Rubicone alcuni storici dicono Alea Iacta Est che significa semplicemente il Dade Trat cioè siamo passati in sostanza invece un altro storico dice che Cesare pronunzò Alea Iacta Esto cambia completamente il significato perché l'Alea è l'evento imponderabile il rischio gli Acta sono le azioni Esto significa si rischioso nella tua prossima azione quindi lui passa con i Romani dice da adesso in poi dobbiamo andare all'attacco e rischiare e il Bari deve fare Alea Iacta non Est Alea Iacta Est deve rischiare deve giocare quindi imperativo diventa imperativo se non rischiamo non abbiamo nulla da perdere disse Bin quello che l'americano del famoso protagonista dell'arte di vincere Franceschino dove è possibile continuare a seguirvi Flick e Flock vediamo io sempre insieme insomma dove è possibile sempre su Scienzo Sofia di Lo Salve Monteleone noi trattiamo ultimamente tra l'altro abbiamo intervistato sono stati i nostri ospiti anche diciamo a proposito ospiti suoi i tifosi del Bari Salvino Bartoli Antonio Palumbo però chiaramente abbiamo parlato di altre cose in relazione alle e mando un saluto a Donato Franconi che ti vuol tanto bene Donato è così simpatico saluti a Donato un grande abbraccio a Donato Franconi adesso la rubrica Tennis e Paddle curata da Giuseppe Bellino e Renato Nunzianti io ringrazio il dottor Giacomo Losazzi e il nostro Franceschino Monteleone alla prossima grazie pubblicità e poi Tennis e Paddle buona serata Elettrica Armenise è impiantistica elettrica da quasi 20 anni e realizza impianti per case private condomini e attività commerciali utilizziamo esclusivamente materiali certificati di alta qualità per garantire impianti sicuri e affidabili progetti eseguiti in conformità alle norme europee specialisti nell'installazione di antenne per il digitale terrestre parabole Sky impianti di sorveglianza a circuito chiuso e nell'automazione dei cancelli professionalità prontezza e affidabilità al vostro servizio non sceglieteci a caso avete i migliori motivi per affidarci la vostra azienda o la vostra casa Elettrica Armenise Via Lucera 9 Modugno Bari o armeniseimpianti.it Quando è il momento di cambiare il mondo quando è il momento di cambiare auto Suzuki Tecnologia da Incentivi Suzuki Solo da Car Service Bari Viale Yatija 243 Bari Suzuki Car Service Bari Nel cuore di Bari L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina Follow Bus Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia Basilicata e Campania Prenota subito su basimiccolis.it Per cambiare tutto non devi cambiare niente perché siamo noi ad essere cambiati per te con nuova ID3 grazie a noleggio idea hai tutto incluso da 449 euro al mese con anticipo zero Vieni a scoprirla da Volkswagen Centrum Bari Questo programma è offerto da Sport Club Corso Cavour 116 a Bari Buon pomeriggio e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Time Break rubrica settimanale dedicata al tennis e al padel oggi focus proprio sul padel sono in compagnia di Pasquale De Ruvo consigliere regionale del comitato Fit Puglia quindi responsabile del padel pugliese Buon pomeriggio e ben ritrovato Buon pomeriggio a voi Allora Pasquale diciamo che questo è uno sport che è esploso negli ultimi anni la Puglia recita un ruolo da protagonista possiamo dirlo proprio per questo ti chiedo qual è lo stato di salute del padel pugliese Lo stato di salute del padel pugliese è ottimo anche se devo dire che rispetto al trend nel nord Italia ha subito una fase di stazionamento assolutamente non di declino ma di stazionamento perché è dovuta ad una serie di fattori sono aumentati i campi da padel a disposizione e questo è un fatto estremamente positivo il numero di giocatori non è cresciuto proporzionalmente ancora ma è soltanto una fase perché il padel è uno sport che diverte diverte ha un effetto aggregante notevole e quindi la tendenza non può che essere la stessa la medesima che sta avvenendo negli altri negli altri negli altri regioni d'Italia quindi io sono molto molto fiducioso sul processo di evoluzione del padel ovviamente parliamo anche di padel giocato tanta attività in Puglia sono terminati proprio domenica i campionati assoluti pugliesi ovviamente un livello molto alto giocatori che continuano ad impressionare ed è stato proprio il Kendro a ospitare questa manifestazione sì questo è il settimo anno di seguito che abbiamo l'onore di ospitare questo torneo che dà visibilità soprattutto ai giocatori pugliesi o che comunque giocano nell'ambito della regione ieri la finale si è giocata tra due ragazzi italo-argentini che sono cresciuti qui nel territorio alla fine e dobbiamo ringraziarli perché ci hanno aiutato a crescere un po' tutti quanti e sono Gioel Ventura e Macchiaroli che hanno vinto contro due amici amici ex-tennisti che hanno poi tra l'altro un carattere e sono ad esempio sempre in campo uno dei quali gioca anche per la squadra del Kendro e sono Alberto Cristofaro e Garzelli mentre in abito femminile anche lì c'è stata una sorpresa una sorpresa per chi diciamo non ha seguito il padre ultimamente però la finale si è giocata tra Perrone Perrone Carella contro Cascella e Storari io ero convinto che per esperienza fosse favorita Cascella che tra l'altro è stata anche lei un istotice del Kendro e invece sono rimasto felicemente sorpreso perché Carella che gioca con noi in squadra ha dimostrato insieme alla sua compagna una maturità tale da potersi aggiudicare il titolo quindi siamo felici Allora facciamo un breve passaggio sul tennis guardiamo insieme all'intervista realizzata da Renato Annunziante e poi torniamo subito dopo un mini spot pubblicitario Ciao a tutti mi chiamo Giovanni Dell'Edera e sono un maestro nazionale della Federazione Italiana Tennis e Paddle insegno tennis da diverso tempo oramai la mia passione per il tennis è nata nel 1987 quindi tantissimi anni fa avevo quattro anni e mi piaceva seguire tanto mio fratello che giocava a tennis a livelli importanti quindi appena ho visto lui giocare a tennis è stato un po' per emulazione e quindi mi è piaciuto tantissimo come sport e ho iniziato con una racchetta bianca in legno la Slazinger bianca sui campetti del mio paese a Rutigliano c'erano due campi da tennis e ho iniziato lì a tirare i primi colpi di racchetta da giocatore ho avuto un percorso molto importante da un punto di vista didattico ho iniziato come dicevo a cinque anni piano piano sono entrato nelle rappresentative provinciali e regionali ho avuto la fortuna di potermi allenare anche al centro tecnico periferico che era allora all'Olympic Center qui a Bari con giocatrici che poi hanno avuto anche fama internazionale come Roberta Vinci e Flavia Pennetta il consiglio che do ai ragazzi è un po' quello che mi sono portato io nella vita divertirsi sempre il tennis è uno sport che richiede tanti sacrifici ma questi sacrifici diventano nulli pari a quello che può essere il divertimento e le emozioni che ti può dare questo sport quindi consiglio a tutti i ragazzi di coltivare il divertimento all'interno di questo sport a prescindere da quelli che sono i risultati sportivi che non sono importanti in maniera immediata quindi a livello junior sono più importanti a livello pro bene adesso se vogliamo apprendere un po' quelle che sono le abilità del nostro sport possiamo spostarci direttamente sui campi da tennis ci troviamo su uno dei campi da tennis della New Country Tennis Academy del Country Club Bari vi abbiamo detto che avremmo parlato di un'abilità in particolare beh una delle abilità importanti nel nostro sport è il diritto diritto è un colpo molto importante perché insieme al servizio è una delle abilità che permettono di portare a casa più punti nel tennis moderno circa il 40-50% dei punti attualmente vengono appunto portati a casa con l'abilità del diritto per eseguire una giusta abilità di diritto è importante avere innanzitutto una posizione di partenza decontratta in modo tale che l'abilità acquisisca un certo tipo di velocità questo vale un po' per tutte quelle che sono le abilità del tennis l'impugnatura di partenza è esattamente proprio per quello che vi ho detto prima quella del diritto essendo uno dei colpi che produce più punti all'interno dello scambio di gioco quindi molti giocatori prediligono partire con una posizione di partenza decontratta avendo già l'impugnatura del diritto a questo ne conviene che una volta avuta l'informazione dal canale oculare riesco comunque a dare l'informazione al cervello ed avere un'informazione una movimentazione dello spostamento del corpo rapida utilizzando lo spostamento del tronco quindi l'arto non dominante va a spingere la racchetta e quindi anche il braccio dominante verso l'abilità quindi in questo movimento qua accompagnando la racchetta ho qui l'arto non dominante che è una funzione molto importante mi aiuta sia nell'impatto con la palla quindi mi indica direttamente il punto di impatto con la palla che dovrà avvenire sempre come in tutte le abilità davanti al corpo nello stesso tempo anche una funzione di equilibrio in quanto permette al corpo stesso di avere uno spostamento in avanti e quindi di prediligere tutto lo spostamento sia della testa della racchetta che del corpo verso l'avanti e quindi verso la direzione del campo opposto adesso possiamo spostarci sul campo per vedere quella che potrebbe essere un'esecuzione corretta a livello tecnico di questa abilità importante sport club il mondo dello sport nel centro di Bari abbigliamento a calzature accessori running basket tennis paddle piscina o fitness vieni da sport club a Bari in corso Cavour 116 a Bari lo sport è sport club rieccoci insieme Pasquale continuiamo a parlare di padel perché l'attività in Puglia non si ferma continua a produrre giovani talenti due in particolare Enzo Vista e Flavia Coppola sono due ragazzi che si allenano rispettivamente al Citi Barletta e a Brindisi prenderanno parte ai prossimi mondiali giovanili di padel con la selezione italiana naturalmente in programma in Paraguay a metà novembre un bel risultato per la Puglia ma questo testimonia anche l'importanza e l'esperienza dei tecnici pugliesi che quotidianamente continuano a sfornare giovani campioni Assolutamente sì e per questo dobbiamo ringraziare l'ottimo lavoro che stanno facendo i due fiduciari tecnici che sono Gigi Piazzola e Lucas Bracchi e non posso che confermare tutto l'orgoglio da parte del comitato regionale nell'avere due convocati tra i giovani ai mondiali sono due ragazzi eccezionali meritano il successo che hanno e non posso che suggerire loro di mantenere sempre l'umiltà che fa parte diciamo di quelle caratteristiche fondamentali per poter continuare a crescere Allora facciamo un breve recap degli appuntamenti in programma anche a livello nazionale dal punto di vista del padel ci saranno i campionati assoluti e in programma a novembre ma soprattutto la tappa finale del circuito Slam by Mini che è proprio il Palakendro ospitato per numerose edizioni ci sarà anche per un appuntamento pugliese molto importante un open organizzato appunto dal Palakendro con un monte premi di 9500 euro un'occasione per vedere all'opera numerosi talenti Assolutamente sì stiamo avendo già tantissime richieste da parte dei giocatori a livello di formazioni è un impegno che mi sono diciamo che mi sono preso perché in questa fase bisogna adesso continuare ad investire per competere con il Nord Italia che da quando ha conosciuto il padel ha diciamo iniziato a spingere su questa bolla e infatti spesso abbiamo difficoltà nell'attrarre adesso i campioni nel Sud a differenza di quanto accadeva un paio di anni fa dove eravamo stati i primi perché perché i giocatori trovano più comfort nel muoversi a distanza di 50 km di raggio d'azione e questo per noi è un diciamo in questo momento una difficoltà in più ma con passione e il giusto sforzo anche economico si può e si deve fare e allora io ringrazio Pasquale De Luvo consigliere regionale FIT Puglia e coordinatore appunto del padel Pugliese grazie per essere stato con noi grazie a voi e ovviamente vi auguro un buon proseguimento di giornata questo programma è stato presentato da City Moda seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook